Ciao ragazzi, benvenuti benvenuti sul mio canale, io sono Magnus Oggi siamo qui su Eternity The Last Unicorn Un RPG che uscirà il 5 di marzo, sia per PC che per PS4 Allora, ripeto, com'è stato il video, com'è stato un bel commento, un bel mi piace E' un RPG che racconta più che altro una storia fantastica Tanto tempo fa gli unicorni in pratica avevano portato l'immortalità Ma poi pian piano si sono estinti Il nostro compito è quello di salvarne soltanto uno, quello che è rimasto Non ci perdiamo tanto in chiacchiera perché sono curioso di vederlo Quindi, schermata iniziale, new game e vediamo Grazie a tutti Ok, credo che sia già sottotitolato ma in inglese Guardi alla natura Infatti, come avevano detto E' uno sacrificato 4 unicorni Ok, c'era un numero di agenti che erano stati comprati Ok, questo è incredibile La generazione potenza fu passata alla generazione successiva Ok, soltanto uno di questi unicorni Sì In pratica è quello che avevo detto all'inizio Che si sono completamente estinti ma ne è rimasto soltanto uno Ok, quindi soltanto noi siamo in grado di risolvere questa situazione Salvando soltanto l'ultimo unicorno che sia rimasto Vabbè Questo è il succo Ok, ci dice già Oh, che strano Un po' lucido come checkpoint raggiunto Quindi siamo una donna Un elfo più alto, credo Ok Così schianzo Colpisco Così salto, vabbè Andiamo avanti L'ambientazione ve l'ho detto che era Un po' strana Un po' tipo Che è questo? Sembra strano Vabbè Oh, eccolo Ne è rimasto uno Esamiamo Non credo che stia bene Però non ci dice niente Quindi dobbiamo usare questa light flask Sarebbe penso la luce Ok, abbiamo parlato Dovamo esaminare Allora Credo che Sia questo Ok Devo capire come fare per muovere No Non è quello che mi permette di muovere Allora Con le abbiamo esaminato Aspetta Di qua forse Vedi che qua c'era qualcosa Prendi Ok, abbiamo acquisito Se provo Ah, vedi Tieni premuto Per modificare Ok, che ne è l1 Penso di qua Vediamo Ah, assorbo Ah, vedi Dobbiamo collezionare I cristalli rossi Per comprare Nuovi Vabbè Per potenziare quindi le armi Vabbè Vorremmo andare da quest'altra parte Che poi è la parte iniziale No, non credo che sia di qua Nemmeno Ok Ok, vai un ciclo di questa Di questa pietra Vabbè Sono la stessa cosa Ah, dovevo tornare indietro quindi Era soltanto la parte iniziale Perfetto Assorbiamo Quante ne ho beccate Non lo so Tieni premuto Aspetta, aspetta Che non ho caduto Tieni premuto R2 Ah, vedi Per blocchiare Con questo paro Grazie Ok, ti apparirà Perfetto Bella sta mossa Oh, aspetta Aspetta Ma sai che Quasi non ti avevo visto Vabbè L'ho fatta ma stranamente Però abbiamo acquisito anche Le nuove cose Prendi Ok, personalmente Ah, per ristabilire L'energia e la vita Apriamo l'inventario Perfetto Per assegnare Seleziona Ah, vedi Ho qua Sì Sì Allora Abbiamo l'inventario Quindi adesso Perfetto Ok Allora Molte cose le abbiamo becchiate Voglio capire Se in pratica Questi si rompono Sì Qua c'è roba dentro Sì Apriamo Non c'è sta niente Ah, è vero No Upe, upe Calma, calma Dai Non ho capito Se si è aperta O È open Forse non ho la chiave Ma Forse non ho la chiave Vabbè Questi si rompono E ce le becchiamo Qua c'è può essere qualcosa Che ci può servire No Oh, di qua non posso andare Vabbè Mi è dato tutto chiuso Parecchie pietre Voglio capire soltanto Se possiamo Ma non credo Perché sia A posto Troppo presto Questa è la chiave Craft material Pensa che sia per Creare dei vari materiali Ok Chiavi Usa Quindi pensa che ci sia Una chiave particolare Perché non ce l'ho No Vedi Non mi la fa neanche rompere Vabbè Andiamo di qua Vai Per controllo Tutorial Che Vabbè Sì Non ci interessa Per controllo Uuh Aspetta Questo è me la becco Vai Non abbiamo bisogno Del tutorial Per adesso Ma In attenzione Si vede Che è Fantastica Che è Fantastica Fenselli Ok Avanziamo Qua si può andare No Ah questa Doveva acquisire Perfetto Quindi per Così mi difendo Scartiamo Ok Colpo forte Perfetto Si scendiamo Sì Questo Vodo È molto simile A quello Di Enfim Le acque Sono Magiche Vabbè Quindi non dobbiamo Andare di qua Sì Sì Ok Sì 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 Però Ecco Meglio che ci scansiamo Vai Occhio Oh Lo vedo Lo vedo aggressivo Lo vedo aggressivo Vai Cerchiamo di non farci fregare Perché vedo che loro tendenzialmente tendono A bloccarli T'ho beccato T'ho beccato Alle spalle Ok Oh Naletto Facevamo pure Allora Adesso è qua Sì Ci conviene romperle Che roba è sta cosa Sembra tipo una pietra Aspetta che qua È venne usata Per Ah vedi Questa serve per Craftare materiali Alcune Ah sono per le missioni Ok Queste ci servono Qua non credo che possa entrare Vero sì Perché Sembra tipo una sorta di Di scudo qua Guarda Se infatti È bloccata Allora Abbiamo quindi Questa Ah vedi Questa mi serve per Ah Però vedete Sta crescendo Quella parte lì Perfetto Quindi Una l'abbiamo acquisita Vabbè Ah aspetta Però qua Che dice Ah vedi Per mettere In maniera Veloce Ok Vabbè Mi sa che Dove è andata Questa parte Di questa Aia Prendi 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 Ok Adesso Sono un po' Più bravo Spider Ragno Mesh Ah Sono le gambe Del ragno Sì Dopo dobbiamo capire Che cosa possiamo realizzare Questa me l'acquisisco E prendiamo Ok Quanta roba c'abbiamo Così capiamo un pochettino Qua niente Qua per craftare Parecchia roba Movimento Ok Usa Ah no Me lo fa utilizzare Perché evidentemente No Questa nemmeno Ok Vabbè Andiamo avanti Perché secondo me ci farà vedere Poi dopo Come Aia Occhio 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 Sono un po' bruttivi Oh Attenzione Questo c'è una specie di puzza Sì Però non mi sembra Il caso Mi raccoglio Te l'ho detto Che questo c'è una specie di puzza Ancora Attenzione Occhio Questo fa la puzza Ok Almeno ho reagito poco Raccogli questo No Stavo Ah Vedi Grande C'era della roba Prima Non me l'ha data Allora Abbiamo due parti Che possiamo raggiungere Qua non ho capito Poi ricordo Ah Per i salvataggi Il fuoco Salviamo Ok Però questo non ho capito Ce lo fai aprire Questa Ah Vedi Questo si apre almeno Non può fare tenere cristallo E posso ottenere un numero di frammenti Ok Quindi salviamo Credo che ce ne sia Oh attenzione Ammazza così all'improvviso Aiaia Aiaia Ok fregato Fregato vai Ma lo vedo a chi Attenzione alla puzza Ok C'è roba No niente Per noi niente Allora potremmo andare a destra A sinistra Io penso che dovremmo andare a sinistra Vado un attimo a destra Per capire Che Innanzitutto perché c'è Che vuole Questo Questo si apre No E' uno straniero Penso Ha perso Una pietra No Luzzo Ma non so su Non so cosa significa Mi faceva mostrarti Una cosa buona Questi sono Le cose rare che io Ok Ah una specie di venditore Sarà un commerciante Per comprare e vendere Infatti open store Vabbè sì Comprare e vendere e lasciare No per adesso non ci interessa Ado da qua Mazza c'è C'è pure da lì tu Si pensa Provo Mazza Ce l'ha becchiata Ce l'ha infetta Perché ce ne sono Ok Ok Questo è cattivo Questo è più forte Di quell'altro Dai Chissà perché Alcuni sono molto più forti Altri sono più schiarsini Allora Credo che Si è riempita la cosa Lì Quindi è probabile Che forse Posso fare qualcosa Aspettate Allora qua No Ok Questo cos'è È il cristallo particolare Sì Ok Questo è quello che abbiamo trovato Oh Oh Aspetta che c'è un problema Secondo livello Vai Ok Prendi Allora Vediamo di capire Se qua No Non è di qua Qua non pensa Che possa entrare Vero Ci sono Delle Radici magiche Gialle Che bloccano Questa porta Va bene L'avevo intuito Non ho capito Ah vedi Questa si apre Grazie Qualcosa dobbiamo Abbetticare Siamo andati a destra Pensavo che non potevamo andare a destra Invece no Potevamo andare a destra Allora Nooo Questi sono nuovi Questi sono nuovi No Sono come di prima Attenzione 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 Mazza Questa lancia pure a fuoco Aia Devo Secondo me Se riesco a utilizzarla La cosa vado meglio Ah vedi La mossa speciale Vedi Sì Me la fa fare Queste sono Non ho capito Se queste No Non si rompe Ma là sopra Che c'è un drago C'è un drago Là sopra Sì Che sbaglio Quello è un drago Sì È un drago E ora Ha aggiunto anche Il checkpoint Sembra un drago Che cos'è quella creatura Aia Non so cosa sia questa creatura Parla Un elfo Ci ricorda la nostra gente Come ricordo Di Harvest Usava Camminare Da queste parti Con Bright light Penso che siamo A luce Non so cosa Ma Sfortunatamente In questi giorni Ok Penso che la foresta Abbiamo avuto Ci sia successo Qualcosa di grave Allo stesso tempo Tutto fu Meraviglioso E fertile Ok Ma poi si è persa L'essenza della vita Io ricordo Giorni migliori Questi giorni Questi Ok Camminavano Attraverso le terre Vabbè Di ventura Vabbè In pratica Ricordo le vecchie storie Ok Tu puoi andare Per cercare di craftare Per craftare L'ora di Per continuare L'avventura Hello Ok Seguimi per aiutare Vabbè Ci ha legato Quindi Un materiale Per farlo Craftare Ok Quindi in pratica Adesso ci insegnerà Come fare Per craftare Scegli Uno spazio Ok Questo per forza Non abbiamo modo Ma quindi E' uno che ci dice Come craftare Tengo premuto Sì Abbiamo craftato Con successo Soltanto questo Ok Quindi in pratica Dobbiamo tornare indietro Ah vedi Quello era un commerciante E questo ci indica Come e cosa craftare Ok E allora andiamo di qua Dai Visto che prima Eriamo andati a sinistra Ok Ma dopo vediamo Che cosa dobbiamo Craftare Ciao Ah possiamo parlarci Bulli dell'acqua Vedi prima D'acqua C'era dell'acqua Che potevamo prendere Vediamo se la riesco A prelevare Eri davidi Ok abbiamo Questo è un fiaschetto D'acqua Quindi adesso In teoria Dovrei potergliela dare Al signore Che mi chiedeva L'acqua Vediamo un po' Perché Non so dove c'è fatto Il percorso Ah pensavo Che corressi Invece no Arrivo Eh signore Tenga Tenga duro C'è un fiaschetto D'acqua E' un po' Guidato Come Nel percorso Vabbè Non ci conosce Ok c'è dato Anche un altro materiale Per utilizzare Da Per Come si chiama Per utilizzare Da Da craftare Merci Quindi in pratica Dovremmo andare Sempre dal signore Là Per craftare Ah forse magari Se riusciamo a craftare Dopo possiamo aprire La porta Che sarà D'altra parte Vuoi vedere Aspetta Perché non credo Penso che Facciamo così Arriviamo un attimo Dal crafture Ok vediamo Se ci fa craftare Anche quest'altra cosa Che ci hanno dato No Dovrebbe essere Questa No Non è questo Sbagliato Ah no Ce l'ha già dato Quindi è già Craftata Quindi Adesso L'ho craftata Perfetto Ok Ok Ho continuato Quindi l'ho craftata Per due volte Ah vedi Adesso Si sono aperte Una serie di cose Che a sto punto Provare a tornare Indietro Che magari Riusciamo ad aprire Quell'altra porta Quella lì Che era bloccata Dall'altra parte Davanti Davanti se ce ne stava Vedi Ah ok Fantastico Ci gettiamo Vai Ok Ammazza Qua ci sono già attaccato Oh Ehi Ma calma Stiamo calmi Stiamo calmi Ma ci sono attaccato Subito di gran carriera Porca parola Che ambientazione Strana pure questa Aia 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 Ok Meno male Questi sono molto Più forti Che cavolo Scoppiano pure Bastardi Siamo su una sorta Di ruscello Non me lo dai questo Ai Siamo tipo Su una sorta Di ruscello Belle le ambientazioni Comunque Fanno un po' Tipo Darksiders In un certo senso Non riesco a saltare Perché identamente Ci dovrebbe stata Fatta altra cosa Vabbè Io penso Da questa parte La possiamo finire qui Mentre naturalmente Ci sta un ragno Che ci Ammazza Questa è più Che ci Insegue Ne facciamo La mossa Lo ammazziamo E ci becchiamo Anche il pietrino Naturalmente Come se Vi invito a questo A mettere un po' Un bel commento Un bel mi piace Ci vediamo Nel prossimo video Bye